E' tempo di stalkerare un po' di persone Nello sguido meno, provo a stalkerare da sopra C'è uno di qua Nessuno qui, nessuno lì Dove cazzo stanno? Davvero non riesco a vederci Mi hanno pure guardato Tanto vale che è hit, ero troppo vicino Vediamoci un po' di ferimenti E' giusto che abbiamo messo scossa? Mi manca in passo forza brutale Ora che è noto Upsi Non ho un chase perk Ho solo full gen death Il che non è molto buono Non riesce a fare un giro intero col bloodlust attivo Adesso non esageriamo Ah, rompiamo qua il pallet Lo scrimo del gioco è probabilmente il knight che deve uscire Sì, forse sì, sai Snake per te, Michael oppure Ghost Io preferisco Ghost perché è più veloce nei chase Cioè, non è che è più veloce nei chase Dà più pressione fin dall'inizio Perché Puoi stalkerare veloce E ci usare Il surf a te No, ho sbagliato Cazzo Mi sono bastasse Vabbè, intanto il 99% Vabbè Che giorno è l'evento dialogo? Il 18 inizia Ipergamo e se vedo in potenza l'M1 Non ha effetto su Anors Sì, esatto Non ha effetto su Anors Nice Mi ha preso No, invece no Cazzo Nice Sì, non funziona Matteo, grazie del follow Benvenuto per Serpentelli Spero che ti troverai bene qui con noi Sì, non funziona sulla Nors Il problema è che però Se tu lo giochi su un M1 e basta Tipo il Wraith Se ti trovi l'ossessione come sopravvissuto Non puoi fare niente Jagger, grazie del follow del Del follow su TikTok Gentilissimo, caro Quindi lo devi giocare su killer Che possono decidere Se ittarti col tasto sinistro O il tasto destro Metti per caso Una pig Col potere Col control Non credo che c'è qualcuno qua sopra O un Wesker Un Nemesis E chi più ne abbia Più ne metta In pratica Babababau 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 Guardate Stavo dando fastidio a Bubi La cosa che ti fa vedere I perk Non va più Va solo su PC Buon flashlight Eh beh Non è colpa mia in questo caso La build di Ghost Seguitore letale Jolt Chili Barbecue Torre ambulante La tua Seguitore letale Chili Barbecue Jolt Jolt come solo Gen defense Non mi piace Con lui puoi giocare Tranquillamente Anche macellaio Perché alla fine È uno stealth killer Quindi macellaio Funziona bene Sugli stealth Tipo questa La sapeva Un macellaio Proccato Non sono A fare save Oh Non mi fa l'in Vabbè Non sono davvero A fare save Braga Bacole Ottimo Abbiamo portato Al 99% Coso Abbiamo fregato Ada Lì c'è qualcuno Quindi ci giriamo Non riesce a fare Save Ottimo Volevo chiedere Prima torno di novembre Se svolgerà nel weekend Sì Si svolgerà nel weekend Boys Ops Penso di avere Già il potere Dove è finito L'altra Eccolo qua L'audio Eh vabbè Doveva partire L'abbiamo rifixato Poi Quindi Nice Scusate Perché non è in pass Se ce l'hai Eco di dolore Comunque meglio O pop Pop anche Molto buono Questo c'è Il perk di Renato Sicuro Pagliaccia di un'ata Come funziona Come funziona il torneo Sarà un 4v4 Ogni team Sceglierà Il proprio killer Ogni team Sceglierà il proprio killer Che giocherà come killer Una partita Si farà Un game da killer Di un team E un game L'altro team In pratica Fodina Pelfi Comunque c'è da dire Che quando si siede Sopra i sopravvissuti Si siede in una maniera Molto particolare Proprio sulle chiappe Si è seduto Non è una cosa mia Però Grazie che cuoricino Weapon Perché potremmo farla Solo a uno Forse due Dopo di Ghost Dopo di a Ghost Di metterla su Instagram Ma se facessimo Un account Instagram Di Ghostface Dove postiamo Dove giochiamo solo Ghostface Ogni volta che facciamo Ghostface Con il Mori Postiamo un nuovo Selfie Selfie Voleva stare comodo E ma guarda proprio Come si siede sulle chiappe E come spinge anche Capito Che ci farà con queste Fottine Io ho un'idea Per la presenza Bellissima idea da fare Ogni giorno Nuovo selfie Di Ghostface Con quella maschera È ancora meglio Per mettere pressione So So Bad team A monkey killer Win No way I will say Only one Thing That's Che 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 Grazie a tutti.